bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono NannyCart e oggi continuiamo con la serie di Doom allora nello scorso episodio sono fermati in questo corridoio abbiamo notato che nell'ultimo episodio sono arrivati dei cosi volanti, c'è teschino volanti comunque oggi ricontinuiamo come avevamo fatto per iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e non perdete nessun video mio ciao ok salta Rosalina vabbè iniziamo subito siccome c'è il monkey bus uso la motosega per il momento mamma mia cazzo vabbè sono arrivati all'inferno, non so perché però noi ci proviamo a sistemare tutto mamma mia stavo sistemando il coso delle cupie mori, mori ecco c'è la prima bocca pure come si sembra fosse la prima bocca bu intendevo questi quelli che avevano visto nell'ultimo episodio a me mi servono delle munizioni mori, 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 ecco ragazzi siccome non ci sono commenti commentate sotto se vi piace il gioco come ripeto che cavolo ci c'è oh oh ci vi piace quando urlano vabbè e tipo la drotta questa vabbè e tipo i resti di un'antica civiltà ci può essere usiamo i lanciarazzi nel frattempo c'è fatta la bocca pure c'è questa cosa non ha senso vabbè e andiamo là sopra stavo per cadere vediamo cioè mai sto all'orchestra visto che so questo è che fanno visto cazzi di muco di come cazzo è volato ragazzi tanta rosalia qua niente da da qua perché fanno così le scale io bu potenziamo l'arma va aspetta se vediamo questo mi piace gentilmente questo mi piace ma che figata è vabbè che è che suore vabbè vediamo un'altra porta c'è ma adesso ho rimasto blocca è la è la fine mori ma che c'è mori ma che era siccome non voglio spiegarlo mettiamolo da parte va vediamo mori 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 posso andarne che è c'è non dica cosa che voglio c'è c'è guarda non dica senti l'opalia guarda mi sto verso il corpo certo ma c'è io sto vedendo una cosa e tu mi disturbi deficiente come osi si incazza quando dico deficiente voglio il replay di sta cosa immediatamente c'è paura che mi sono presso santo cielo è finito che è un'altra eccola cioè perché c'è Skyrim il tipo di Skyrim con una freccia perché è una freccia del ginocchio eccola io ce l'ho notata segreto scoperto devo fare zig zag guardala qua vediamo eh vabbè c'è cos'era quell'arma per futuro non fa male medica munizioni vabbè vediamo mi c'è anche il coso manco l'ho visto c'è per fortuna non fanno male ci viene pulito l'ore che lo so come morite che bene essere zio tanto tanto vanno a mettere sulla sfida contro di me morite sono buggate stagalate vediamo questa mappa è più vittima no io cazzo mamma mi perché fate in quella maniera ecco no cazzo ok vai morite cazzo no no eccolo morite 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 male morite male questo volevo voglio questa tecnica morite manca i bus in merda no le munizioni cazzo questo è il vero inferno aspetta cazzo aspetta un terreno auto Ecco fatto Continuiamo Non credo che siano male raga Ecco qua Ma manco per sogno Cioè perché ogni volta che entro qua Mi viene Male gli occhi Cazzo Mori Morite Morite male Pe cap su siete Morite male Morite Morite Ma perché Ho nei cazzi di volta Sto molto di merda Cazzo voi Giuro che è insopportabile Certe volte Giuro che è molto insopportabile Portatile Non scoperto il limite E basta Vedete questo Questa è la vostra fine Allora Morite 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 Poi te male, raga Quei cazzo siete? Ti fucilo Te non posso usare, che cazzo ti c'è? Ho paura Lancia razzi Mori male E inghiotti sta roba Cazzo devo allontanarmi Eccolo Oddio mio Non so come cazzo sta succedendo Anche il Markibus No vabbè Io morio male Ho messo per morire Ma perché hanno i cazzi di volte? Mi rompe le palle È un boss sta roba Sta cosa è un boss Ormai un boss è diventato È una cosa insopportabile Dai Andiamo Ormai un boss è diventato Andiamo Ora è la vostra fine Guarda di giallo Mori male Col polvi Elfi La dràgona Di giallo Dov'è? Oh, un po' no! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh mio, che cosa cavolo è successo? Cioè... No, vabbè. Vieni qua. Vieni qua, sai coraggio, stronzo. Utilizziamo questo, va! Mori male. Dimmi che è morto. Dimmi che è morto. No, cazzo! Perché è proprio in quella maniera? Cioè, cosa succede? Che succede? Finalmente, checkpoint è raggiunto. Che è ormai vedo queste cose. Ok. Andiamo a portare. Cioè, non so che... Finalmente. Cioè, ormai sono all'inferno. Cioè, per il futuro sono usciti. Come mai... Come mai c'è scritto distrutta? Ragazzi. Cioè... C'è scritto distrutta. Ti sei aperto la strada negli inferi e hai fatto ritorno. Ma i demoni hanno alzato la posta su Marte. Devi trovare il modo di fermare il portale infernale creato da Olivia. Cioè, ormai devo... Per forza arrestarla. Ci devo per forza fare un processo. Dai. Dai. Avanti se hai coraggio, ecco. Inferno. Mamma mia. Andiamo. Cosa cazzo è successo? Il portale non può più essere chiuso da questo lato. L'energia infernale proviene da un luogo del loro mondo chiamato... Il ponzo. E quindi? Ma tu sei tornato. L'unico in carneo sa varcare le dimensioni. Oh cazzo! Tu potrebbe esserci una scherzetta. Mega sta pronto ad accedere ai file di Olivia. Raggiungi il terminale più vicino. Ti forniremo le informazioni. Devo andare al terminale? Ho tratto il giudizio. Dovevo andare là sopra. Vediamo. Ok. Infatti... Infatti l'avevo visto. Infatti volevo controllare se c'è un altro. Come so bravo con il compositore. Vabbè. Dov'è il coso? Eccolo qua. L'ho visto. Cura finalmente. Che? Queste sono munizioni. C'è un segreto scoperto. Cioè io vedo sta transizione. C'è molto perfetta come cosa. Ho sbagliato qualcosa. Cosa? Un altro segreto. Vediamo. Devo andare in qualche posto? Devo andare là sopra. Che genio. Ok. Oh. È solo per cadere. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono ritornetto. Adesso vi ammazzo. Mi dissocio. Vabbè. Vediamo. Olivia custodisce un manufatto. Nel suo laboratorio segreto. Lo studiamo da anni. Ma è fatto. Vedo che aiuterà a trovare le risposte che cerchi. Porta il tuo marchio. In che senso? Il laboratorio personale di Olivia non fa parte delle strutture registrate nel database. Sarà necessario un accesso di livello alfa. Concesso. Potrei accedere alla struttura Lazarus dal settore nord del complesso di ricerca avanzata. Vista circa 80 chilometri. E quindi? Attiverò l'alimentazione della rotaia per raggiungerlo. Ma ti servirà una scheda di accesso aziendale per attivarla. C'è una stazione di sicurezza nei paraggi. La voce. Vai chiù. Devo raggiungere la stazione. In che senso? Devo andare in stazio... Andare in stazio... guarda qua. Guarda qua vai chiù. E adesso se gioca. Perché io sto diventando infernale pure io? Ma adesso si scherza in sto gioco. Moriii. l'acqua morì morì ecco morì credo non me lo so dai vieni qua vieni qua stronzo vieni qua morì male dove cazzo sei eh? adesso che ride? adesso che fai? morì male cazzo puoi eh coglione coglione cazzo puoi morì male oh cazzo oh dio morì male morì male vieni qua vieni qua stronzo oh oh morì male stronzo morì male ecco fatto vediamo cioè infatti se notate che dal primo episodio mettere la registrazione è totalmente spenta ho detto hai visto la mia tecnica poi sono compasse moltissime persone tipo un troll mi sono attento già da adesso un altro un altro non ti vedevo da molto tempo zio ah non andare da qua boh andiamo mi riguardavo lo schema della base io voglio vedere se c'è ancora il cadavere non è senso quella roba mi è senso in un'altra ma che cazzo è successo? giuro che mi è asserito l'anima cazzo vediamo non è cambiato non c'è più non è posto boh raggiungere posso avere il menu zinger per piacere vediamo devo salire no non è manco attiva questo è un formichiere vediamo c'è anche se uso lo stesso schema non è cambiato un cazzo mi aspetta un combattimento di giabello dov'è? eccolo qua cazzoni che è deficiente non è non è proprio proprio un cazzo mori che cazzo sei eh? efficiente mori 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 male vieni qua voi domine vieni qua ecco qua il deficiente del monkey boost mori male ecco proprio a ralenti bello vediamo gli anime sono calmate per fortuna dove devo andare? devo andare qua per forza chi è venuto prima di voi e chi è ancora qui ha sempre lavorato per lo stesso obiettivo lo sviluppo di una nuova era per la humanità è proprio e basta santa rosalia ogni volta me lo dici cosa c'è qua? vai ma che oh ma che oh che è sto che è sto bestia? come si vuole tenere sto coso? mori 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 eh è un toro sto qua mori proprio in fila indiana è qua adesso che ride adesso che ride succede dove siete? andiamo qua che è un hologramma che schifo devo seguirlo sembra che quel demone abbia preso la tua chiave magnetica dovrai recuperarla santo cielo santo combattimento eccolo mori ecco ammazzato mi sa che l'abbiamo ammazzato vabbè ti ho visto deficiente ok mori agganciati bene qualche volta non così ok quelli sono tranquilli facciamo anche ammazzato dottoteca perché cazzo ho fatto perchè sempre candele c'è un busto non so come non so come parlare promuovendo che cazzo ho fatto che cazzo ho fatto mori male cazzo esplode esplode su deficiente ok mori mamma mia dai dai oh basta ogni volta non so come cazzo devo fare vediamo perché ogni volta dovevi cominciare perché ogni volta che feccato vabbè vediamo eccolo mori male ecco fatto guarda qua cioè guardate all'arrentatore tipo guarda cioè guarda qua che figata non me l'aspettavo oh oh perchè ogni cazzo di volta e basta ogni volta una cosa insopportabile ogni volta santa rosalia di un mono dai basso c'è comunque voglio vedere sti pezzi di merda comunque c'è poi ci sono per sorre che i tempi io solo a te senso motivologico c'è poi c'è tipo nonostante specie di sito dove l'interno si fa delle cazzate poi c'è un piede non so perché i propri piedi io boh speticisti metti la canotiera metti la canotiera basta prepariamoci al peggio prendiamo alcune cose perché il portone potrebbe aprirsi ok eccoli cazzo corri deficiente utilizziamo questo va mori morite tu devi stare attento quando mi incontri da strada più vicente e tu devi stare attento quando mi incontri da strada perché io ti filisco male è un ordine è un ordine non voglio andare da sotto non c'ho manco munizioni cazzo cazzo eh muori intanto non ci vede lui stava per sparare muori finalmente è morto stavranci merda che cos'è l'esplorazione l'esplorazione non autorizzata delle zone interdette all'esterno della base è severamente vietata in queste aree in queste aree cazzo vuoi rilevata breccia di mobili nooo che pensi ti ha detto blu ah cazzo mori male morite i love you ok mori male mori se faccio la strage aiuto mi sa che è esagerato mori comunque lo voglio voglio bene a sto pezzo di merda cazzo perché non mi fate fare una cosa tanta rosaria mori male se immagino prima dell'illusione mamma lavoro per te io essere creatura io non posso lavorare ho fatto male a ironizzare cazzo oh mori male no ancora a te no mi hai fatto spaventare te devi spaventare mi questo fa joss e vinta i parallele è questo cioè avete visto cosa cazzo ha fatto io non ho parole raga è andato da qua l'ho visto è andato da qua ok andiamo da sopra questo c'è qua mori male morite morite mori 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 ammattati ammattati mori male di quanto mi fa ridare ah cazzo c'è il coso morì male morì male morì male andiamo specialità ma sta ancora registrando cioè ragazzi scusate che non ho messo la registrazione perché sto controllando perché è uscito qualcosa vabbè finalmente abbiamo abbiamo recuperato la cosa che cazzo guarda qua sono il capo di questa corporazione il tuo lavoro e tutte le tue scoperte appartengono a me era più prima ancora che tu lo trovassi mamma mia te morì male accesso confermato va qua oh roba dava pazze oh 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 santa rosa dio dai apri mamma ciò mai abbiamo a nordos fast nager guarda muori muori male la lava la lola ciò che ha il treno thomas del futuro mai dai un futuro luminoso vediamo devo andare stiamo per arrivare al contesto di ricerca perché c'ha la voce di distanza è tempo di incontrarci di persona il mio ufficio è al secondo piano di questa struttura ah quindi sta facendo un appuntamento devo andare al suo ufficio che devo parlare di di conti bancari io boh cosa c'è no non ho manco un ufficio del fucile guarda eh infatti costruita con sangue con sangue abbiamo già il sangue qua ma che cazzo ok mori male mori male ecco qua mori male oh baby ok let's go no 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 oddio mori male mori male mamma mia come l'ho ucciso no io mi dissocio vediamo non possiamo non possiamo continuare il lavoro senza di loro però da massimo e su cosa staresti lavorando attualmente Olivia non vedo rapporti per due dita mesi ok mori male mori male mori male quanto rosso c'è mo i youtube mi bannino mi bannino mi bannino mi bannino mi bannino non posso fare ma perchè non ha senso sta roba ma che cazzo va bene oh oh baby 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 vediamo scusate avevo fatto la corsa non voglio a lei non voglio sentire né credenti né cazze e mazze oh non voglio manchare credenti di sta qua ci ho fatto anche la religione che cazzo cosa vuol dire io mi dissocio da quello che fa cioè perchè deve fare ste cose cioè questa è va contro giuro che io mi dissocio da lei mori male beh mori male quel cazzo sei multibus ecco ti mori male non so perchè fanno in quella maniera i rumori che poi sento sti suoni guarda qua mori male mori male vediamo vediamo ok fuori qua sto morendo male oggi non ti incastelare no 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 si cazzo mori male vettine sacra mori 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 male Giuro che sono tante Manca a capire un cazzo Mori Oddio Mi manca a capire niente Vediamo C'è quanto è incredibile che escono vita E munizione Tra Su delle bestie Che cosa cavolo Vabbè Vabbè Mori male Posso andarne Posso andarne Finalmente Non preoccuparti dell'aggiornamento di sistema Che sei te Per il nostro vincolo interdimensionale Un modo dire Di chiamarti Tagli inferi Mi dispiace Per lo Shock Ma non pensavo Che avresti accettato L'installazione Mamma mia Sono il dottor Samuel Hayden Ho bene fondamenti nel mio ufficio Da questa parte Da questa parte Prego Grazie mille Ce lo so perché Negli appuntamenti Sono sempre Un po' imbarazzato C'è Vabbè Vediamo Benvenuto Dottor Hayden Dottor Hayden Ah però Che è Una spada Come sei tu Quanto è forte Oh Ma questo è tipo un cavaliere Cavaliere Vediamo La distruzione Della torre Argent È Devastante Ma Voglio aiutarti A chiudere il portale Tutto il nostro lavoro E la nostra comprensione Del loro mondo Deriva dalle iscrizioni Su un grosso manufatto Di pietra Recuperato dagli inferi All'inizio del programma Lo chiamiamo Pietra Elix Pietra Elix È la risorsa Meglio custodita Che abbiamo Olivia Ne era ossessionata Allora Perché me la Raccontate La mia A manipolare l'energia Degli inferi A piegarla Al nostro volere E a sfruttarne Le risorse Inoltre ci ha condotti A te La pietra Elix Ci ha mostrato Come imbrigliare Il potere Del puzzo Che E io credo Che possa anche Mostrarti Come fermarlo Per anni Olivia Ha tenuto Il suo ufficio privato Dei laboratori Mamma mia Accessibile Soltanto tramite L'ascensore Del complesso Di ricerca avanzata Oltre il Salto cielo La tua affinità Con le armi È evidente Sono sicuro Che anche lì Troverai qualcosa Di utile Vediamo L'ascensore Di servizio È in fondo Alla sala Ok Fammi prendere Questi cosi Ok Andiamo Comunque Questo c'ha il mondo Non so perché Andiamo Andiamo Vediamo Cioè È diventata Una cosa Comune Cioè Non c'è più ritmo In questa parte Finalmente Dopo anni Lo stesso cadavere Ammo Dove devo andarne Io vado Io vado Santo cielo Cosa c'è Api portone Non ti è fatto bene Questo ascensore È un ascensore Persimo che non sia Un ascensore Eh Andiamo Mori male Ma chi è questo? Che è questo? Il punto zero? Che? Oh Sei lacido Tossico Vergognati Tossico di merda Mori Mori qua Mori Mori male Sei qua Mori male Ok Let's go Mori Male Mori male Mori male È morto Immagini che prendono Un mio video Per usarlo Come pubblicità Truffa Io Denuncerei Non basta Ballare di questo Continuiamo a giocare Comunque Sono in tanti Cioè non ci riesco a fare la proteggere Cioè questi sono passi Ecco Ti avevo visto Mori Mori male Cosa c'è qua? Dov'è la porta? Vuoi ritornarne? Che è tutto Voglio vedere qua Ok Cioè ho sparato E non fa danno Cosa vuol dire? Mi è volato Ha fatto il volo Dell'angelo Vai più Che? Che E si può aprire Quei colpi Che genialato Cosa c'è qua? Che è il tu Eh Cosa vuol dire questo? Vediamo No volevo vedere Che scemitaglio C'è una parola Cioè che cos'è sto posto? Gesù Dove devo andare? No scopriamo Un'uscita Ah devo andare da qua Non si sale Ecco Vabbè ragazzi Questo video finisce Voi lasciate Un mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao